Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in libertà Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoporte Oggi siamo in compagnia di Maria Nicoletti Ciao a tutti Ancora una volta ci allungerà in una canzone di Fabrizio Moro Fabrizio Moro, quella ultima di Sanremo che si chiama Sei tu Sei tu Sì Dopo la sigla Sigla Cantare in libertà Bene, prima di proseguire con gli accordi di questo video io vi ricordo di iscrivervi su questo canale e di attivare la campanella così ogni volta che ci sarà un nuovo video vi arriverà una notifica e lo potete guardare prima di immediatamente Andiamo agli accordi Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi che sono Do maggiore quindi dove ci sono i due tasti neri qui a sinistra abbiamo il Do Mi, Sol Do maggiore poi avremo Sol maggiore quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol Sol, Si, Re formano il Sol maggiore accanto abbiamo La minore La, Do, Mi poi andando un po' indietro abbiamo il Fa maggiore quindi Sol, Fa Fa, La, Do forma il Fa maggiore e la canzone vi dico già che in originale è in Si maggiore però siccome ci sono un po' di posizioni scomode per chi è all'inizio è meglio farla in Do maggiore quindi iniziamo Fa così Fa prima un giro di questi quattro accordi e poi inizia il campo sei tu che d'origine a quello che penso la distanza compresa fra me e l'universo il motivo per cui la mia vita è cambiata sei tu che hai visto i miei sbagli ma non l'hai giudicata e sei tu quel confine fra il giorno e la notte dove io mi nascondo con le mie mani rotte che continuo a scagliare sul muro che non cedi giù ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro perfetto sei tu che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi sei tu il mondo che passa attraverso i miei occhi e sei tu che mi inietti nel sangue il destino e accompagni i miei passi come fossi un bambino sei la cosa più bella che ho sempre difeso e sconfitto i miei dubbi quando io mi ero reso che ci vuole una forza incredibile per dire buongiorno mentre provo a vagare fra te e chi sta intorno mi hai visto credere in me e poi non crederci più ma l'insistenza di esistere è appesa ad un filo sottile sei tu che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi sei tu il mondo che passa attraverso i miei occhi c'è un giorno per credere in te ok ok adesso come avete visto insomma gli accordi sono sempre quelli quindi potete ritmarli come volete l'importante è usare sempre queste note potete arpeggiarli a questo punto diciamo c'è uno special dove gli accordi sono sempre uguali fatta eccezione che a posto del sol una volta inserirà il mi minore quindi mi sol si ma per il resto resta uguale vi facciamo sentire andiamo di qua oggi ho un giorno per credere in te oggi lasciami senza parole voglio vivere i sogni che ho fatto anche se hai deciso di essere altrove oggi ho un giorno per credere in te oggi lasciami senza parole prendi ancora se vuoi la mia rabbia in affitto la distanza fra un uomo che ha vinto e un uomo sconfitto sei tu ok come abbiamo visto ci sono degli accordi che sostituisce in modo veloce dei passaggi ma sono sempre gli stessi e andiamo a finire la canzone sempre con gli stessi accordi vi facciamo ascoltare sei tu che attraversa il mio ossigeno quando mi tocchi sei tu il mondo che passa attraverso i miei occhi sei tu una volta strumentale sempre con questi quattro accordi poi anche una sonda il mondo che passa attraverso i miei occhi sei tu e la canzone finisce così bene come abbiamo visto anche questa è una canzone molto semplice da suonare al pianoforte e ringrazio Maria grazie a te per averci aiutato ancora una volta e come sempre vi lascio in descrizione un link dove trovate il testo con gli accordi poi altri due link di puntate dedicate al pianoforte almeno alle basi e in più la diteggiatura per entrambe le mani se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra c'è una puntata che parla di come poterlo fare e quindi lascerò il link anche di quella in descrizione quindi vi auguriamo buona primavera fra poco è primavera che bello che bello sta per arrivare la primavera e ci vediamo al prossimo video ciao